Continua con le marci un po' ridotte dopo la positività al Covid scoperta nello scorso fine settimana e il ritiro del Foggia, che dopo le otto reti a Livrea ha dovuto annullare il test con lo Schervason di maniera precauzionale. Attesi nelle prossime ore gli esiti dei tamponi successivi per poter riprendere regolarmente e terminare in bellezza, il ritiro in Valle d'Aosta prima del ritorno in Puglia. Il primo gol della stagione è stato segnato da Vigolo, attaccante Scuola Milan, in prova con i rossoneri, che potrebbe rappresentare una di quelle sorprese che Zeman è abituato a regalare. Stesso discorso per l'altro giovanissimo Felleka, che ha messo a segno una doppietta. Giovani, forti e con la voglia di mettersi in mostra, questo l'identikit dei giocatori che Pavone sta portando al tecnico Boemo, che ad ora dovrebbe abbracciare anche Manuel Nicoletti, acquistato dal Monopoli. Farà il paio sulle fasce con Garattoni, altro 23enne, che il DS ha avuto alle sue dipendenze a Castellammare di Stabia. Dopo il ritorno di Rocca a centrocampo, l'obiettivo è portare a casa i due difensori centrali, che dovranno sostituire Anelli e Gavazzi. Occhi puntati sulla Serie B, da dove potrebbe arrivare in prestito uno dei nuovi componenti della retroguardia rosso-nera.